Con noi Vincenzo Doca, Presidente Centro Commerciale Naturale di Caltanissetta. La settimana scorsa è stata una settimana di polemiche tra i commercianti del Centro Storico e l'amministrazione comunale. Il punto qual è? L'amministrazione comunale, sia quella attuale che quella precedente, non ha fatto nulla per il Centro Storico e per lo sviluppo del Centro Storico. Caltanissetta purtroppo da questo punto di vista sta morendo. Caltanissetta ha delle grandi potenzialità. In questi anni non possiamo dire che non hanno fatto nulla le due amministrazioni. Purtroppo gli interventi che hanno fatto non sono stati adeguati alla situazione, una situazione che si andava via via degenerando. Però noi rimaniamo fiduciosi perché abbiamo delle grandissime potenzialità, abbiamo dei negozianti e delle realtà imprenditoriali sia in Centro Storico sia in periferia che sono veramente di tutto rispetto. Purtroppo ci ritroviamo sempre una, lo devo dire, una zavorra che è l'amministrazione che non ci dà la giusta possibilità di esprimere al meglio le potenzialità che sono sia quelle di squadra, perché l'amministrazione la intendiamo come un'attività di squadra che a tutt'oggi non è mai stata compiuta. Basta dire che abbiamo richiesto ufficialmente un incontro già ai primi di giugno e a tutt'oggi non abbiamo avuto nessuna risposta. Le proposte sono stato e siamo stati attaccati che non abbiamo fatto proposte, ma proposte ne abbiamo fatte tante e a costo assolutamente zero o giù di lì. Sicuramente tutto è meglio anziché stare fermi ad aspettare, non è nell'indole dei commercianti e degli imprenditori in genere. Io leggo che ci sono anche tantissime persone di buona volontà che si propongono e propongono, ma purtroppo si è rivelato un muro di gomma. Noi chiediamo al dottore Gambino di scendere dal palazzo e venire a incontrare la zona industriale e i commercianti in genere, perché non c'è questo luogo comune, è stato sfatato ormai, ormai come si suol dire il re è nudo, non c'è alcuna divisione, perché tutti vogliamo fare delle cose. Prima cosa è squadra, non sederci intorno a un tavolo per discutere di quelli che sono stati gli errori del passato, ma per vedere che cosa possiamo realizzare, perché tutti abbiamo da guadagnarci o da perderci a questo temporeggiare. Ma per far comprendere meglio anche a chi ci segue da fuori, le idee sono tante, ma qualcuna che vorreste portare avanti con l'amministrazione comunale qual è? Allora, noi già durante la pandemia, cioè nel periodo di lockdown, avevamo proposto agli assessori, non eventi visto che siamo fuori luogo, ma quando si parlava di rivitalizzare il centro storico, sarebbe stato bello chiedere ai produttori a chilometro zero, o del bio, di venire a esporre, a vendere e a esporre i loro prodotti qui sul salotto buono, come che lo avevano confezionato loro, abbiamo visto ormai che non è decollato e non decollerà mai. Quindi abbiamo chiesto questa cosa qua. Quindi a noi non ci ha mai fatto paura la concorrenza, anzi la concorrenza è di stimolo a migliorarci. Può permettere veramente grandi cose, grandi cose il conoscerci tra di noi e fare veramente piccolissime cose. Poi ci è stato detto che si possono aprire un portale, ma i portali già sono stati superati, ci sono i mezzi tipo Facebook, Instagram e via discorrendo che hanno delle potenzialità infinite. Si possono fare veramente tante cose a costo zero. Poi avevamo chiesto anche una musica per poter liberalizzare, tra virgolette, perché non ci è stata data nemmeno la possibilità di approfondire il tema, dare la possibilità ai negozi di mettere musica gratuitamente, sempre per rasserenare gli animi con questi messaggi continuamente di pericolo. Ma siamo a 20 giorni, ormai un mese, siamo ancora in attesa. Di che cosa non è dato sapere.